buongiorno a tutti oppure buonasera come sempre dipende come tutto nella vita un po dipende io sono antonio vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana livello intermedio avanzato buongiorno a tutti i miei cari studenti o buonasera da antonio benvenuti a questo corso di italiano livello avanzato in questa lezione iniziamo l'unità 28 l'unità che parla di cinema ovviamente parliamo principalmente di cinema italiano infatti l'unità si chiama proprio cinema italiano ci troviamo davanti subito dalla prima pagina una bella carrellata di fotografie di personaggi famosi del cinema italiano almeno sono famosissimi in italia e penso anche all'estero abbiano il loro seguito di fan e di appassionati quindi veniamo alla parte chiamata per cominciare che ci dice lavorate in coppia conoscete questi personaggi ok io ve li presento più o meno ad uno ad uno penso che alcuni di questi sono strafamosi anche in cina altri forse meno comunque iniziamo il primo personaggio è niente poco di meno che un principe e si era un discendente di una famiglia nobile decaduta niente poco di meno che il principe antonio de curtis conosciuto meglio sia in italia sia all'estero col suo nome d'arte di totò è soprannominato a ragione il principe del cinema italiano sia perché appunto proveniva da una famiglia nobile sia perché è stato davvero uno dei pionieri del cinema italiano i suoi film sono famosissimi ancora oggi ci sono molti appassionati dei suoi film io fra tanti adoro molti dei suoi film sono cresciuto guardando i suoi film quindi il primo personaggio è totò un attore fantastico se trovate i suoi film guardateli perché sono uno più bello dell'altro ovviamente ne ha fatti tanti di film alcuni non sono proprio all'altezza del suo nome però ha fatto non pochi capolavori poi se volete i dettagli ve li dirò in un'altra sede vi informo sui vari capolavori che secondo me appartengono alla filmografia di totò ma comunque per adesso passiamo avanti andiamo avanti il secondo personaggio è il regista visionario è il maestro possiamo dire che anche lui è famoso sia in italia sia all'estero in quanto regista particolarmente visionario e stiamo parlando proprio del maestro federico fellini regista davvero strepitoso ha fatto dei film fantastici poi andiamo avanti e abbiamo la prima icona possiamo dire il primo sex symbol del cinema italiano la bellissima all'epoca sofia loren ovviamente sofia loren era un nome d'arte lei si chiama penso sofia scicolone però sofia scicolone diciamo è un nome che non si addice tanto ad un'attrice e quindi si è fatta chiamare da sempre sofia loren con questo nome d'arte di loren che sembra anche un po più anglofono un po più accattivante e anche più facile da ricordare se ci pensiamo comunque anche lei protagonista di molti film che hanno fatto la storia del cinema italiano andiamo avanti abbiamo un personaggio un po più recente diciamo infatti il suo primo film risale alla fine degli anni 70 è attore regista ha iniziato con delle commedie dalla forte connotazione politica e satirica e pian piano si è andato sempre più discostando dal genere diciamo comico comunque dalla commedia abbracciando quasi completamente il tema sociale politico stiamo parlando di nanni moretti un personaggio abbastanza singolare del panorama cinematografico italiano adesso andiamo al secondo rigo abbiamo questa seconda fila di personaggi famosi del cinema italiano il primo penso che sia uno degli attori più bravi più talentuosi che abbiamo mai avuto in italia ed è marcello mastroianni anche lui interprete di innumerevoli capolavori molti lo ricordano per aver girato la dolce vita che fra l'altro è di fellini quindi sicuramente ne avete sentito parlare anche voi comunque un grande attore di talento davvero recuperate i suoi film perché sono bellissimi poi abbiamo questo famosissimo se non lo conoscete avete vissuto sotto una roccia per tutta la vostra vita probabilmente è impossibile non conoscere questa faccia da schiaffi chi è è roberto benigni vero l'attore penso in assoluto più famoso all'estero cioè l'attore italiano più famoso all'estero specialmente da quando nel 98 99 o giù di lì ha vinto l'oscar per la vita è bella comunque secondo me il suo periodo migliore è il periodo proprio immediatamente precedente alla vita è bella ha fatto dei film fantastici fra cui johnny stecchino il mostro e altri ancora ma va bene così poi abbiamo ma anche qua questo penso che sia uno dei primi divi anche del cinema italiano che è albertone sordi un fautore della comicità romana de roma anche lui spesso e volentieri ha abbandonato il genere commedia o comunque il genere comico per affrontare temi sociali anche abbastanza tristi abbastanza impegnati diciamo così e poi come ultima chi abbiamo abbiamo anche qua un altro sex symbol del cinema italiano la bellissima monica bellucci penso che sia la donna che tutti gli italiani vorrebbero avere accanto e che tutto il mondo ci invidia anche lei attrice fotomodella ha fatto tante cose tanti film sia in italia sia all'estero e io ricordo di averla vista cioè di averla trovata ma anche così senza aspettarmelo anche in uno dei film di matrix penso che sia nel secondo matrix a un certo punto io guardavo il film e mi appare monica bellucci detto ah però non lo sapevo che la monica bellucci recitasse anche in quel film è stata una gradita sorpresa comunque questa era la carrellata di questi talenti ovviamente non ci sono soltanto loro adesso nella scena italiana del cinema però sono fra i più famosi oppure lo sono stati ovviamente adesso c'è tutta un'altra scena in italia tutto un altro tipo di cinema i tempi sono cambiati sono cambiati anche i volti del cinema italiano comunque questi sono quelli storici il secondo esercizio ci dice alcuni di questi personaggi hanno delle cose in comune collaborazioni genere di film a cui hanno lavorato eccetera discutetene in coppia e scambiatevi informazioni con gli altri compagni beh qui ovviamente vi vengo in aiuto io insomma vi do un po di direttive per quanto riguarda questo dunque diciamo che possiamo accorpare totò roberto benigni alberto sordi e anche il primo nanni moretti a una certa categoria di attori di film comici ok li possiamo mettere insieme così allo stesso modo possiamo insomma mettere assieme fellini e mastroianni dicendo che sono stati il regista e il protagonista della dolce vita quindi li mettiamo insieme così e poi mettiamo insieme sofia loren e monica bellucci come il passato e il presente del cinema italiano per quanto riguarda il ruolo di sex symbol ecco perché abbiamo detto sofia loren è stata una sex symbol del cinema italiano così come lo è tuttora monica bellucci quindi questa è la classificazione che faccio io poi ovviamente possiamo fare delle altre classificazioni ma per adesso ci fermiamo qui esercizio 3 nanni moretti e roberto benigni sono due grandi attori registi del cinema italiano cosa sapete di loro leggete i due testi che seguono per saperne di più vabbè io già in realtà qui vi ho presentato un po la loro opera e adesso non ci resta che leggere i due testi abbiamo il testo a che parla di nanni moretti e il testo b che parla di roberto benigni leggiamoli assieme ovviamente paragrafo per paragrafo e vediamo un po se ci sono parole che non conosciamo cose che non sappiamo e tutte queste cose qua nanni moretti nato a brunico in provincia di bolzano nel 1953 nanni moretti è cresciuto a roma a tutti gli effetti la sua città d'adozione nel 1976 ha realizzato il suo lungometraggio io sono un autarchico il film tratta dei rapporti interpersonali degli amori e delle delusioni della generazione del post 68 e non poteva non divenire oltre che un inno generazionale un film simbolo di un clima epocale quindi possiamo dire che nanni moretti è trentino di nascita e romano d'adozione perché insomma si dice così perché è nato a trento però ha vissuto tutta la sua vita a roma e quindi può considerarsi romano a tutti gli effetti cioè completamente e il suo primo film addirittura risale al 1976 questo film si chiama io sono un autarchico e parla di un gruppo di persone reduci possiamo dire dal 68 che cos'è il 68 nel 68 c'è stato un grande movimento di contestazione giovanile perché i giovani volevano imporsi volevano cambiare le regole non volevano più appartenere alla vecchia generazione e non volevano più rispettare le regole della vecchia generazione quindi c'è stato un gran un movimento per la salvaguardia possiamo dire dei ceti più poveri e con meno diritto di parola all'epoca quindi operai studenti minoranze etniche tutte queste cose qua insomma è stato un movimento molto importante non soltanto in italia ma in tutto il mondo quindi dopo il 68 si respirava aria di rivoluzione di rinnovamento e invece in questo film c'è un aria di delusione dopo il 68 e per questo dice diventa un inno generazionale un film simbolo cosa significa qui diventa un film rappresentativo di tutta una generazione cioè della generazione che aveva vissuto il 68 come studenti cioè da studenti da giovani e che poi si ritrova dopo il 68 come adulti bene andiamo avanti nel 1978 moretti è approdato finalmente nel mondo del cinema professionale con il fortunato eccebombo a cui sono seguiti altri film sempre di buon successo tra cui sogni d'oro 1981 leone d'oro a venezia bianca 1983 la messa è finita 1985 orso d'argento a berlino caro diario 1993 premio per la migliore regia a can nel 2001 moretti ha vinto la palma d'oro al festival di can con la stanza del figlio un film altamente drammatico e toccante moretti ha partecipato da protagonista anche a pellicole di altri registi molte delle quali a sfondo sociale assai riservato il regista ha un pessimo rapporto con i media o media e raramente concede interviste parla solo quando ne sente davvero l'esigenza e usando più che banali parole la sua stessa arte quindi in questa parte del testo abbiamo visto una lunga lista di tutti i film più famosi di nanni moretti con i loro rispettivi premi che sono culminati con la vittoria della palma d'oro a can nel 2001 col film la stanza del figlio non so se avete visto se avete notato scritto che è un film altamente drammatico quindi lui è partito come diciamo regista e attore di film che erano grosso modo da considerarsi delle commedie e poi è arrivato al drammatico e poi quando invece non è stato lui a dirigere i film ma ha recitato soltanto ha partecipato a pellicole a sfondo sociale quindi a film che trattano di temi sociali poi parla del suo rapporto con i media quindi con la televisione la radio i giornali dice che ha un pessimo rapporto con i media cioè non gli piacciono i media non gli piace apparire sui media e infatti concede interviste molto raramente cioè si fa intervistare molto raramente e per la maggior parte del tempo lascia che sia la sua arte cioè lascia che siano i suoi film a parlare per lui adesso giriamo pagina e il testo su moretti continua moretti non ha mai nascosto la sua tendenza politica progressista e di sinistra anzi questo aspetto è sempre stato presente sin dai suoi primi film non stupisce quindi che sia stato proprio lui a scrivere e realizzare il caimano un film apertamente ispirato alla figura di silvio berlusconi è presentato nel pieno della campagna elettorale per le elezioni politiche quindi tutti gli appassionati di cinema in italia sanno che moretti è fondamentalmente un regista di sinistra cosa significa che ha idee progressiste forse non proprio rivoluzionario però progressiste vuole guardare avanti e quindi non è una cosa strana il fatto che lui abbia scritto e abbia diretto e penso che ci abbia anche recitato nel film chiamato il caimano che è un film contro berlusconi un film che critica in maniera anche abbastanza aspra la figura politica di berlusconi e come se non bastasse tutto questo questo film è uscito proprio durante la campagna elettorale cioè prima delle elezioni per rileggere il nuovo premier il nuovo primo ministro italiano quindi nanni moretti ama parlare delle sue idee politiche come vedete non concedendo interviste banalmente ma trasfigurando le sue idee politiche e non nei suoi film va bene questo per quanto riguarda nanni moretti adesso leggiamo il testo b il testo che parla di roberto benigni attore conosciuto in tutto il mondo roberto benigni il popolare comico toscano nasce nel 1952 in un piccolo paese in provincia di arezzo personalità aperta e dall'allegria contagiosa roberto benigni sente molto presto il desiderio di mettersi in mostra e far ridere le persone dopo alcune apparizioni televisive in ruoli secondari e il regista giuseppe bertolucci a scoprirlo un monologo teatrale che scrivono insieme diventa nel 1977 berlinguer ti voglio bene un film controverso e all'epoca molto discusso ok questi primi due paragrafi abbiamo insomma l'introduzione e le origini della carriera cinematografica di roberto benigni che già sin da piccolo era molto desideroso di mettersi in mostra e far ridere le persone cioè mettersi su un palcoscenico e attirare l'attenzione su di lui semplicemente poi aveva già partecipato a trasmissioni televisive però non come protagonista quindi in ruoli secondari e successivamente è stato notato dal regista giuseppe bertolucci che lo fa recitare nel film berlinguer ti voglio bene poi un film scritto diciamo a quattro mani cioè benigni e bertolucci dice un film molto controverso cioè che ha fatto parlare di sé e infatti c'è molto discusso il primo grande successo popolare arriva nel 1984 con non ci resta che piangere interpretato in coppia con massimo troisi non mancano anche le sue partecipazioni a film stranieri come down by low di jim jarmusch nel 1993 interpreta il figlio segreto dell'ispettore clouseau né il figlio della pantera rosa di blake edwards ok qui parla del primo film davvero di successo di roberto benigni che non ci resta che piangere in cui è coprotagonista significa che sono protagonisti sia lui sia massimo troisi tra l'altro questo qua è un film bellissimo secondo me se vi capita guardatevelo che non ve ne pentirete assolutamente e poi il testo parla di alcune comparsate che ha fatto anche con ruoli abbastanza importanti in film stranieri per esempio c'è stato questo down by low di jim jarmusch che io ho visto in realtà sì carino ma nulla più e poi il figlio della pantera rosa anche questo qua secondo me carino e nulla di più andiamo avanti in italia un alto grande successo lo ottiene con il piccolo diavolo al fianco di walter matthau l'anno dopo partecipa all'ultimo film di federico fellini la voce della luna e nel 1991 johnny stecchino firma un record di incassi per il cinema italiano la vera e propria consacrazione internazionale arriva con la vita è bella il film trionfa nell'edizione degli oscar del 1999 vincendo la statuetta non solo nella categoria miglior film straniero ma anche in quella miglior attore protagonista ok in questi due paragrafi si parla prima della consacrazione italiana di roberto benigni cioè con i film il piccolo diavolo e soprattutto johnny stecchino che c'è stato un record di incassi e poi parla della consacrazione internazionale di roberto benigni con la vita è bella che infatti ha trionfato agli oscar del 99 vincendo la statuetta di miglior film straniero e miglior attore protagonista andiamo avanti due anni dopo iniziano le riprese di pinocchio in assoluto il film più costoso nella storia del cinema italiano a cui segue la tigre e la neve indimenticabile e anche la sua apparizione in asterix e i romani accanto a gerard pardieu un rapporto particolare lega da sempre l'attore toscano con la divina commedia di dante benigni è molto apprezzato per le sue recitazioni di interi canti del poema che ha portato in giro per l'italia in un tour chiamato appunto tutto dante ok qui parla del benigni post la vita è bella possiamo dire dopo la vita è bella che cosa ha fatto ha fatto pinocchio che è stato il film più costoso del cinema italiano la tigre e la neve che invece secondo me è stato molto bello e poi la sua comparsa in questo film asterix e i romani che è anche carino poi invece parla del suo rapporto con dante con la divina commedia infatti ha portato in giro per i teatri di tutta italia e penso anche in qualche tappa all'estero uno spettacolo teatrale in cui recitava e analizzava alcuni canti della divina commedia questo spettacolo si chiama tutto dante bene adesso che abbiamo finito possiamo passare alla comprensione del testo dice abbinate le seguenti informazioni al testo relativo testo a nanni moretti testo b di roberto benigni leggiamo queste frasi uno qualche suo film ha avuto un grande successo commerciale allora a me automaticamente verrebbe da mettere la spunta sia su a sia su b però penso che b sia più appropriato perché abbiamo detto che johnny stecchino è stato campione di incassi insomma il film che ha incassato di più nel cinema italiano fino a quel momento quindi questo è indice di un grande successo commerciale ovviamente poi due ha collaborato con grandi registi italiani anche qui penso che siamo più sul b che su a ok qui si parla sempre di roberto benigni infatti con chi ha collaborato ha collaborato con giuseppe bertolucci ecco grande regista giuseppe bertolucci poi vabbè ha collaborato anche con registi stranieri come ad esempio jim jarmusch oppure blake edwards poi tre le sue scelte politiche sono note a tutti ok qui di nuovo da quello che abbiamo letto nel testo dobbiamo mettere la spunta sulla a perché la a perché sappiamo dal testo che abbiamo letto che dalla riga più o meno 17 18 che nanni moretti è un regista progressista e di sinistra e quindi anche nei suoi film c'è una spiccata vena progressista e di sinistra poi 4 è appassionato di letteratura italiana a o b ovviamente b benigni non solo di letteratura italiana ma particolarmente di dante ok della divina commedia di dante che infatti porta in giro per i teatri con questo spettacolo chiamato tutto dante e infatti se vedete di fianco abbiamo un manifesto del suo spettacolo al piazzale clodio di roma una piccola curiosità che il testo non ci dice ma che so perché ho studiato e ho fatto le mie belle ricerche e che invece il fratello di nanni moretti che si chiama franco è professore di letteratura italiana in america quindi possiamo dire che entrambi hanno a che fare con la letteratura però da quello che abbiamo letto in questi due testi quello appassionato di letteratura italiana è sicuramente benigni poi 5 è stato premiato anche come attore di nuovo si sta parlando ovviamente di benigni perché si sta parlando di benigni perché benigni ha ricevuto l'oscar nel 1999 come miglior attore protagonista non soltanto regista perché benigni ha anche scritto e diretto la vita è bella ma anche come miglior attore protagonista perché benigni ha recitato come protagonista nel suo sesto film poi sei non vive più nella sua città natale questo che cos'è a o b e ovviamente a perché si parla di nanni moretti che è nato a brunico che è in provincia di bolzano quindi in alta italia in trentino e poi è cresciuto a roma e infatti roma è la sua città di adozione ma non è la sua città natale 7 non è una persona molto estroversa di nuovo stiamo parlando di nanni moretti quindi mettiamo la spunta sulla a e perché non è una persona molto estroversa perché abbiamo letto più o meno a rigo 13 14 che il regista e attore è una persona assai riservata ok insomma moretti è riservato non gli piace apparire fare mettersi in mostra a tirare l'attenzione su di lui non gli piace preferisce che siano i suoi film a parlare per lui poi 8 ha vinto diversi premi a livello italiano ed europeo ok qui quando si parla di europeo penso più a nanni moretti di nuovo perché nanni moretti perché abbiamo visto che ha vinto premi a venezia a berlino e a can che sono insomma tre premi europei mentre benigni ha vinto l'oscar che invece è un premio americano 9 ha partecipato a film internazionali di nuovo si sta parlando di benigni che infatti ha partecipato per esempio asterix e i romani ha partecipato al figlio della pantera rosa ha partecipato down by law e altri che adesso non mi in mente penso che ce ne sia un altro chiamato coffee and cigarettes in cui c'è anche lui oppure tassisti di notte sempre di jim jarmusch poi 10 ultima prima del cinema ha esordito in tv e stiamo ancora parlando di roberto benigni ok rigo 24 che dice dopo alcune apparizioni televisive in ruoli secondari quindi come abbiamo visto benigni è apparso in tv però non come protagonista in ruoli secondari e poi è finalmente approdato al cinema bene con la fine di questo esercizio penso che sia arrivata anche la fine di questa lezione nella prossima lezione continueremo ancora con esercizi sulla grammatica sul lessico e ancora sul testo in particolare come sempre non mancheranno parti di ascolto e di lavoro sulla lingua io come sempre vi do appuntamento alla prossima lezione e vi auguro buono studio e buon lavoro ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti